ciao amici ben tornato in un'altra puntata della reazione dall'americano io sono l'americano mi chiamo franco oggi voglio fare vedere qualche fotografia di musica che ci ho messe nel muro io voglio riempire tutto il muro da per terra fino il tetto ve lo farò vedere io c'ho tante posters che devo mettere in cornice le devo mettere lì ma mai l'ho fatto ma c'ho qualche ora ve le faccio vedere la prima che vi farò vedere no quello è questa qui eri veder l'ho comprato in toronto quando ho fatto il concerto solo e lui è uno dei miei artisti preferiti devo avere uno di lui il prossimo neil young neil young è amato da arrivare c'è un grande rispetto tra di loro e io sono canadese noi amiamo a new young lui un grande canadese sempre voluto bene alla sua musica viva neil young la prossima che c'ho qui è una di pearl jam ma non è un poster io ho preso una copia che quello è un poster di un concerto che ho andato e non avevano il poster più ho trovato uno sull'internet e l'ho fatto mettere su un canvas come si dice canvas in italiano scopriamo ora no canvas in italian tela in italiano la tela sono messa sulla tela piace molto a me una più piccola piace la prossima abbiamo un'altra due è questa foto di il gruppo canadese tragically hip e questo a zero significante a voi ma se sei uno che ama i tragically hip questo significa molto qui c'è tutte le piccole le città che vanno e la direzione della distanza da dove vivevano questo è una cosa che c'ha di fare con una dei loro canzoni difficile spiegare nemmeno lo spiego questo qui è la maglia di un giocatore dei toronto maple leaf che è morto aprile 21 1951 e hanno fatto una canzone di questo e questo si chiama wheat kings and pretty things questo rosso qui è un'altra canzone che i grandi tragically hip avevano ora questo è una foto che mi commuove questa è l'ultima volta che gordoni il capo di tragically hip ha cantato questa è la foto che sta salutare a noi e ci sta dire salute noi sappiamo che non lo vediamo mai più questo è una grande foto si vede spesso qui in canada e ora ve le faccio vedere tutti insieme ho fatto un piccolo sbaglio aspetta non l'ho messo l'altro video vediamo se fa come dico io download drop penso di sì 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 ok ok bene so l'ultimo queste sono tutti so story and beati tutti i bughi come un puzzle and alla fine tutto il muro è più lungo diventerà tutte foto di musica la musica è qualcosa che voglio bene questo è proprio l'entrata quando entra si capisce questa è casa di musica amici è musica buona ok amici ora chiuderò Cinzia sono quelle che ho quest'estate metterò tanti in cornice io penso che lo farò è tempo le voglio messe sono qualcosa che proprio godo io perché no ok amici ci vediamo presto e viva Ucrania ciao